Sì, siamo stati molto contenti di contribuire a questa bellissima presentazione del numero di macchine dedicato a Gilles Villeneuve, insieme a Mauro Forghieri, a tutti gli amici Mauro Coppini di Formula Passion, portando qui la nostra bellissima 312 T5, una delle vetture di Gilles, è una delle vetture proprio perché al Museo dell'Automobile, come i nostri appassionati sanno, ci sono tantissime perle, direi che forse la collezione delle auto da competizione è la parte più prestigiosa della nostra collezione e siamo anche lieti di annunciare che il prossimo anno dedicheremo un'intera mostra ai 70 anni di Formula 1, dal 1950 al 2020 e quindi vi aspettiamo tutti numerosi.